Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nel 2022 sono stati denunciati 18.776 infortuni, il 15% in più rispetto al 2021. Sempre nel 2022 sono state denunciate ben 5.911 malattie professionali, numeri allarmanti, che fanno riflettere se si pensa che negli ultimi dieci anni, nella nostra regione, sono stati denunciati 208.000 infortuni sul lavoro, di cui 397 mortali. Proprio sul tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Presidente del Consiglio di Nolatini ha presentato una proposta di legge. Questa legge va nel solco delle precedenti, soprattutto dei principi di carattere nazionale, affinché la prevenzione sia un caposaldo, prima di tutto, etico, poi filosofico, e infine come norme strutturali dei luoghi di lavoro, dei modi di lavorare degli operatori, e soprattutto come un obbligo, non soltanto di ordine sanzionatorio, ma un obbligo sentito dal datore di lavoro. E poi il secondo punto fondamentale è quello di far sì che la formazione delle persone che sono cadute in una situazione di invalidità dettata da infortuni sul lavoro sia in qualche modo legata a un possibile reinserimento sul mondo del lavoro stesso. La terza riguarda proprio la formazione per prevenire gli infortuni sul lavoro e l'altra grande finalità che noi cerchiamo di portare avanti con questa proposta di legge è costruire un sistema di dati che possono rendere conto alle associazioni interessate, alle pubbliche amministrazioni che ugualmente sono interessate, ovviamente ai privati, ai lavoratori, ai datori di lavoro, che se si applicano certe indicazioni il rischio viene meno, in questo caso si raggiunge immediatamente, prima ancora di arrivare alle conseguenze nefaste di un infortunio, i risultati di tutelare la persona umana. Questa legge è sicuramente fondamentale per creare ancora di più coscienza della prevenzione perché serve per portare e far puntare la prevenzione all'interno di tutte le aziende e per far questo sono stati attivati sia dei premi e sia soprattutto anche dei contributi. Uno sportello informativo ci dà la possibilità di informare tutte le aziende su cosa è possibile fare, su quali progetti poter portare avanti e su quali contributi possono ricevere per migliorare la salute e sicurezza nelle loro aziende. Fondamentale poi per la prevenzione le figure dei testimonial che comunicano l'importanza della formazione all'interno di scuole ed aziende. La cultura della sicurezza non è solo un obbligo di legge, non è una normativa da espletare anche magari solo con delle pratiche burocratiche, ma è qualcosa di utile che potrebbe far la differenza tra tornare a casa la sera sani e salvi, amputati, pluriamputati oppure infortunati come purtroppo è successo a me o addirittura come per quanto riguarda tre persone al giorno purtroppo non fare più ritorno a casa.